Il 19 maggio è l'ultima data utile per l'elezione del Presidente del Municipio Centro-Ovest. Il Movimento 5 Stelle propone alla maggioranza sei punti per poter convergere e infine astenersi e permettere l'elezione di Falcidia. Secondo lei accetteranno o ci sarà un nuovo commissario? Ritengo che siano tutti i punti che erano presenti nei loro programmi, quindi teoricamente dovrebbero accettarli. Quindi cerchiamo appunto di convergere su cose che siano realmente utili ai cittadini, alla cittadinanza, ai commercianti, penso alla grande distribuzione eccetera, quindi ritengo che dovrebbero accettarli. Sono punti molto stringenti, parlando della grande distribuzione si tratta ad esempio di non concedere il cambiamento del piano regolatore per permettere ad essere lunga di costruire un supermercato. Anche in questo caso sarà difficile che accettino, cosa ne pensi? Noi in realtà non chiediamo che non apra essere lunga, noi chiediamo che la grande distribuzione apra al posto di altra grande distribuzione, che è una dichiarazione fatta anche dal sindaco Bucci a una tv nostra genovese, quindi teoricamente andiamo comunque nella loro direzione. Non è che diciamo non deve aprire, diciamo deve aprire ma al posto di qualche di un altro e quindi non aumentare di un metro quadro in più la grande distribuzione, anche perché come abbiamo parlato noi con i commercianti, i CIV lo avranno fatto sicuramente anche loro e avranno espresso parere contrario a questa apertura. C'è un po' di differenza tra le promesse elettorali e voi chiedete invece che queste cose siano messe nero su bianco. Tra l'altro ci sono i tempi? Sì, sì, i tempi tecnici ci sono, noi abbiamo già preparato la documentazione, le interrogazioni, gli ordini dei giorni, sono già protocollate e depositate, abbiamo chiesto anche comunque ai nostri tecnici se c'era la possibilità, i tempi tecnici ci hanno detto di sì, quindi si può fare. Un altro punto importante riguarda il gioco d'azzardo, 25 mila Liguri soffrono di ludopatia, lei che si occupa appunto di questo all'interno del CERT, che cosa ci può dire di più in termini anche proprio di dati e di cura? Ma di dati purtroppo posso dire che ancora troppo poche sono le persone che arrivano ai nostri servizi e molti sono familiari preoccupatissimi della situazione di disagio e di patologia, ma purtroppo anche economica, perché sappiamo che queste famiglie vengono distrutte anche dal punto di vista economico. Il gioco di fatto è vietato in Italia, sono le concessioni che via via stanno prendendo sempre più spazio e quindi è proprio su queste piccole e grandi battaglie che noi ci vogliamo essere in prima linea e quindi non sono parole, bisogna agire perché il fenomeno si sta allargando a macchia d'olio, sta cominciando ad avvolgere anche le fasce d'età più giovani, pensiamo solo a internet, pensiamo a quello che accade appunto sui social e come il fenomeno è sempre meno controllabile. Quindi è una responsabilità non solo rispetto alla cura e non solo rispetto alla responsabilità appunto della patologia, ma anche una responsabilità sociale, civica e quindi politica. Basterebbe applicare il regolamento del 2013 senza tante deroghe? Certo, questo sarebbe già un buonissimo risultato. Ripeto, ci sono livelli di responsabilità diversi. Il primo livello di responsabilità è lo Stato. Sappiamo che finché non verrà modificata la legge dello Stato il gioco sarà sempre concesso. Ci sono responsabilità regionali, sappiamo benissimo le proroghe che ci sono state dopo questi cinque anni in cui potevano appunto mettersi in regola e non è successo e ci sono responsabilità più a livello amministrativo locale. Io ripeto, la responsabilità ce l'abbiamo tutti però perché sappiamo bene che questo è un problema grosso che può coinvolgere anche le nostre famiglie e quindi noi se abbiamo una responsabilità in municipio dobbiamo agire, dobbiamo prendere una posizione molto chiara. L'ultima domanda, cosa potrebbe fare il municipio se qualcosa può fare per Lungomare Canepa? Lungomare Canepa abbiamo più volte ascoltato i comitati, i cittadini eccetera. Si può fare tutto, basta volerlo. Loro chiedono giustamente una riduzione delle corsie ad esempio perché passando a tre metri essendoci un muro costruito a 30 cm dalle case diventa invivibile la situazione. Oltretutto era prevista una ciclabile lato porto, quindi tra la superstrada e il porto sono due metri e mezzo comunque recuperabili spostando la strada più attaccata al porto e quindi si guadagnerebbe una fascia di rispetto almeno di due metri e mezzo rispetto alle case. Quindi queste sono alcune delle soluzioni. Noi chiediamo l'apertura di un tavolo per poter discutere con Comune, Regione, appunto i comitati perché sono una parte fondamentale, rappresentati del municipio Autostrada e Anas per trovare magari insieme una soluzione a questi problemi.